Musica Ben ritrovati con lo spazio informativo di TG Veneziano e abbiamo qui con noi oggi ospite del nostro studio l'avvocato Marco Giorgio, gestore della crisi di sovra indebitamento iscritto alla lista presso l'organismo istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia crisi di sovra indebitamento, che cos'è? Allora, la crisi di sovra indebitamento è quando un consumatore o comunque una persona che non può essere dichiarata fallita si trova in una situazione in cui non riesce a far fronte ai propri debiti Quindi parliamo soltanto di consumatori e non di imprenditori di consumatori e di imprenditori che non possono essere dichiarati falliti per vari motivi Ma questa legge 3 del 2012? Questa legge 3 del 2012 ci dà degli strumenti per gestire queste situazioni di sovra indebitamento e prevede degli strumenti che possono essere utili ai consumatori per risolvere questi problemi e per risolvere il loro problema di sovra indebitamento appunto Che strumenti prevede la legge? Un passo indietro, quando parliamo di sovra indebitamento di che cosa andiamo a parlare? Ossia una persona che... È una persona che nel corso degli anni assume dei debiti Parlando di un consumatore facciamo l'ipotesi di uno che si fa un mutuo per la casa poi si fa un prestito, un finanziamento per l'auto poi per la televisione, per fare le vacanze e arriva a un certo punto per cui non riesce più a pagare non riesce più a pagare e quindi si trova in una situazione in cui deve cercare di risolvere la questione perché se no non riesce ad andare avanti e a questo punto si inserisce il meccanismo, i meccanismi previsti da questa legge che gli consentono di gestirla e di venirne fuori con un po' di pazienza, un po' di soldi deve comunque metterli dentro però insomma con l'aiuto del gestore della crisi quindi di questi organismi che sono previsti da questa legge riesce, se va tutto bene, a farsi omologare poi un piano del consumatore o un accordo con i creditori riesce a farselo omologare dal tribunale in modo tale che poi la situazione con il tempo viene risolta Ci sono però dei criteri per poter accedere a questi strumenti Innanzitutto quali sono gli strumenti? Ci sono sostanzialmente tre, i primi due sono forse quelli più interessanti che sono il cosiddetto piano del consumatore che è rivolto solo ai consumatori oppure l'accordo con i creditori che è rivolto anche ai soggetti che fanno attività di impresa ma non possono essere dichiarati falliti oppure la liquidazione del patrimonio I primi due sono quelli più interessanti il primo, il piano del consumatore, è rivolto solo ai consumatori che si trovano in una situazione di sovraindebitamento e consente a chi è meritevole quindi chi si trova in una situazione di sovraindebitamento non per colpa sua Per cui nel frattempo, facciamo un esempio pratico, concreto un finanziamento, un operaio guadagna al suo stipendio poi però decide di fare un mutuo per la sua casa nel frattempo perde il lavoro non per colpa sua e quindi si trova nell'impossibilità di pagare il mutuo per la casa allora a questo punto questo operaio si rivolge o al tribunale che gli nomina un gestore della crisi o appunto all'organismo direttamente in questo caso presso l'ordine degli avvocati di Venezia che gli nomina a sua volta un gestore della crisi e propone un piano per esdebitarsi sostanzialmente per risolvere questa crisi il piano cosa può prevedere? può prevedere una riduzione del proprio debito e una rateizzazione del proprio debito in questo caso tu mi hai fatto solo il caso del mutuo però è più frequente il caso del mutuo più altri debiti può essere anche il bollo auto non pagato debiti con l'erario quindi propone un piano e può dire per esempio il mutuo devo pagare ancora 100 ne pago 90 e lo pago in rate più lunghe rispetto al mutuo lo stesso vale per il bollo auto non pagato i bolli auto non pagati i debiti con l'erario o quelli con gli altri creditori si fa assistere da questo gestore della crisi il gestore della crisi analizza tutti i documenti che devono essere proposti e a quel punto una volta che la situazione è chiara e il gestore della crisi certifica la bontà del piano proposto si va in tribunale il tribunale lo omologa e quindi la situazione poi si risolve chiaramente non deve essere una proposta eccessivamente lunga nel tempo però insomma la proposta si avvia a conclusione e uno riesce a vivere anche perché poi è previsto comunque un accantonamento per la vita di tutti i giorni sì quindi l'accantonamento e la risoluzione poi dei debiti però in questo caso i debiti possono essere completamente possono essere solo ridotti possono essere ridotti o possono anche essere estinti allora non possono essere completamente estinti per essere estinti devono essere pagati possono essere ridotti possono essere dilazionati e questo in proporzione alla quantità di danaro volgarmente che una persona è in grado di mettere in questo piano quindi io guadagno mille e mi servono 500 faccio un'ipotesi per vivere al mese e questi li metto da parte me ne restano 500 e propongo di distribuire questi 500 ai vari creditori e deve essere una cosa ragionevole ovviamente cioè non è che posso dire a uno non do niente e all'altro do tutto quindi deve essere fatta una cosa equilibrata e il gestore della crisi il gestore della crisi deve attestare che il piano è fattibile deve attestare che si tratti di un consumatore deve attestare che il piano è fattibile anche per il consumatore stesso insomma in questo caso quindi con il piano per il consumatore non è necessario l'assenso dei creditori che invece è necessario per la seconda è l'accordo con i creditori in questo caso è necessario per questo tipo di procedura diciamo che a questo tipo di procedura si può rivolgere non solo il consumatore in senso tecnico, il vero e proprio ma anche l'imprenditore ha dichiarato fallito e tende a ristrutturare il debito quindi fa un piano il pagamento rateale diluito nel tempo deve ottenere l'assenso dei creditori del 60% dei creditori e anche questo poi passa per l'omologa al tribunale nel momento in cui il tribunale omologa il piano se ci sono tutti i presupposti il debitore diciamo così riesce a gestirselo con pagamenti rateali diciamo vincolo a tutti anche quelli che non hanno prestato l'assenso quindi i vantaggi in realtà di queste procedure sono sia per i creditori che anche per i debitori sono per i creditori e anche per i debitori perché alla fine comunque si va ad esaurire quello che è stato il credito non proprio iniziale certo, hanno una speranza di recupero in un tempo determinato è prestabilito e il debitore riesce a vivere con un piano di ristrutturazione o comunque di previsione di spesa ben determinato nel tempo ci sono anche diverse agenzie che propongono questo tipo di servizio però ecco attenzione attenzione allora per approcciarsi a queste procedure per approcciarsi a queste procedure occorre farsi assistere non è obbligatorio nella prima fase ma comunque è consigliabile farsi assistere da un professionista serio quindi il professionista serio può essere un avvocato un commercialista uno che sa di numeri e di soldi e ci sono delle agenzie che offrono questo servizio predispongono il piano portano il consumatore davanti all'organismo insomma bisogna stare un po' attenti e selezionare bene i soggetti a cui ci si rivolge per approcciarsi a questo tipo di procedure perfetto e comunque tribunale organismo istituito dal consiglio degli avvocati di Venezia e poi la nomina con il gestore della crisi di sovraindebitamento perfetto ottimo consiglio e adesso invece ringraziamo l'avvocato Marco Giorgio e proseguiamo con le nostre notizie grazie 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 grazie